Bella raga, buon pomeriggio. Siamo ritornati con lo speciale Serie B, quest'oggi della 31esima giornata. Non lo commentavo da un po', dunque andiamo a vedere un po' la situazione. Il Foggia nell'anticipo dello Zaccheria ha battuto 2-1 in rimonta il Cesena grazie al gol di Fabio Mazzeo al 95esimo minuto. Un Foggia che innalza il morale, visto che poi la società è stata commissariata per il momento, visto l'arresto del suo presidente. E dunque un bel Foggia che vince con grinta la squadra di Stroppa. Per quanto riguarda il sabato c'è l'importante vittoria della capolista Empoli al Castellani sul Venezia di Pippo Enzaghi 3-2. Una gara davvero spettacolare, decisa poi alla fine al 74esimo minuto. Comunque un Empoli che ha meritato da Donnarumma e dunque un Empoli che ha meritato la vittoria. Mentre si ferma il Frosinone al Benito Stirpe, fermato sullo 0-0 dalla Salernitana, al terzo risultato utile consecutivo. Galvanizzata anche dalla vittoria del derby della settimana scorsa sull'Avellino. Poi c'è il Perugia che si sbarazza senza problemi 3-0 dello Spezia grazie alla doppietta di Alberto Cerri. E il Palermo che invece viene fermato sul 2-2 a Novara. Ancora in gol il Scuola Inter Puskas per i piemontesi. Mentre per il Palermo le reti di Rispori e Lagumina. E poi il pareggio finale di Schaudone per il Novara al 92esimo. Non va oltre il 2-2 al partenio Lombardi di Avellino anche il Pescara. Dunque Pescara che stava vincendo. Poi alla fine l'Avellino la pareggia all'86esimo minuto grazie a un gol di Di Tacchio. Poi nel posticipo di ieri sera il Carpi ha battuto 2-0 al Cabassi e la Provercelli grazie alla doppietta dell'ex Cagliari. Melchiorri dunque quando riguarda invece la sfida salvezza se la giudica l'Ascoli del Duca di Ascoli Viceno battendo la Ternana 2-1. Dunque con il gol decisivo all'85esimo minuto su rigore dell'ex Tarantino Monachello. E l'Ascoli dunque che praticamente stacca la Ternana e agguanta 29 punti al penultimo posto proprio la Provercelli. Questa classifica è comandata dunque dall'Empoli con 57 punti. L'Empoli che rispetto al Frosinone che ne ha 54 ha anche una gara in meno. Poi 51 Palermo, 50 Cittadella, 47 Bari. Dunque guardate tutti i vicini 46 Perugia e Venezia e poi 44 Parma e Carpi. Una lotta davvero bellissima per quanto riguarda in fase playoff. Quando riguarda il playoff troviamo a 35 punti Novare Avellino, anche se Avellino una gara in meno. 34 Brescia con una gara in meno, 33 Cesena, 32 Virtus Santella, 29 Provercelli e Ascoli, 26 La Ternana. Anche qui in fase per quanto riguarda playoff e retrocessione è ancora tutto aperto a 11 giornate dalla fine. E dunque sarà uno dei campionati forse più emozionanti degli ultimi anni per quanto riguarda la Serie B. Per quanto riguarda la classifica marcatori c'è la coppia d'oro, quella dell'Empoli formata da Ciccio Caputo, autore di 21 gol. E da Alfredo Donnarumma, l'ex Salenitano, autore di 17 reti. Dunque insieme fanno 38 gol in due stagionali. E' la coppia d'oro della Serie B. Poi a 15 gol troviamo il Perugino di Carmine e Montalto della Ternana a 13. Daniel Ciofani del Frosinone e Cristian Galano del Bari, che è fermo da un bel po'. Questa è la situazione in quanto riguarda la Serie B, un campionato divertentissimo e bellissimo. Io credo che i favoriti per la promozione finale siano Empoli e Palermo. E poi con il Frosinone, che dovrebbe spuntarla ai play-off. Ma i play-off sono tutti da giocare, perché ci sono le varie sorprese, come il Cittadella, il Venezia. Mentre sta ritornando tra le grandi il Parma, e dunque il Bari anche tra le grandi. E si è inserito in questo momento con una serie di stati utili consecutivi, anche il Perugia di Breda. Per il momento è tutto, ragazzi. Questo è lo speciale, poi ritorneremo venerdì, credo. Se ce la faccio venerdì, per quanto riguarda invece un po' i pronostici di questa Serie B. Per il mio momento è tutto, ragazzi. Vi auguro una buona giornata e sempre fino alla fine. Ciao, aglio! Grazie a tutti!